salve a tutti oggi presento questa bellissima radio grounding anni 70 che mangia cassetta però non funziona però tra un po lo riparo come vediamo non gira non va tra un po la riparo allora questa radio qua si sente molto bene ha un nostro regolatore di tono praticamente si mette a metà sento bassi alti metto tutto di qua sento solo bassi metto solo di qua sentono solo alti e poi c'è il volume qual selezione di frequenza fm onde media onde lunghe poi qua qua c'è cassette microfono e radio e me l'ha regalata una signora al mercato usato perché gliela avevano portato indietro perché avevano detto che era non funzionante comunque c'è una prova cos'è un po se non so per quando si registra niente non si sente non si sente microfono allora radio si sente benissimo si sente qua c'è il contatore per le cassette ingresso e anche uscita cuffie sintonia maneglia grounding rr 150 osc portabatterie va a 7,5 volt ehm ok grazie per la visualizzazione di questo video ciao a tutti grazie a tutti